Questa mattina mi vedo un po' così, diario di bordo della crisi politica fondamentale della Repubblica Italiana, siamo al 34esimo giorno, adesso ritorniamo seri per un attimo e vediamo che cosa c'è scritto sui giornali oggi riguardo al 34esimo giorno senza governo, il valse della giornata è molto semplice, che cosa è successo? Che il centrodestra pare che sia pacificato, che abbia definito un accordo per andare al Quirinale, Salvini, Meloni e Berlusconi insieme, c'è stata una trattativa, dice qualcuno, ciao Rita, grazie, ti ringrazio moltissimo per il tuo pensiero, qualcuno nel retroscena di oggi ha detto che il tentativo era quello di non far arrivare Berlusconi al Quirinale insieme al centrodestra, ma soltanto Tagliani, pensate un po' voi, questo non è riuscito e quindi oggi in una bella intervista a Repubblica, ovviamente ci sta esattamente il giorno dopo, che cosa dice Di Maio a Repubblica? Disotterriamo l'ascia di guerra nei confronti del movimento di Matteo Renzi, ovviamente non è nei confronti di Renzi, ma nei confronti di quelli che fanno parte di quel movimento, cioè del PD, quindi di Martina e di tutti quanti gli altri, si apre quindi la possibilità a un governo Movimento 5 Stelle PD il giorno dopo, in cui eravamo tutti certi che invece il governo sarebbe stato fatto tra Movimento 5 Stelle e Lega, insomma direi che tutto è in grande evoluzione, oggi i giornali dicono che addirittura ci potrebbero essere tre consultazioni, non soltanto due, ritratto di Fico, molto divertente come sempre fatto da Giancarlo Perna, ve lo consiglio, Ricolfi dice, a me non me ne frega niente che non si faccia il governo perché sono dell'idea, dice Ricolfi, che anche senza un governo andiamo avanti, questa è la tesi di Ricolfi sul messaggero, ma certo che pensare che questi signori sono soltanto d'accordo su una cosa incredibilmente inutile, nel senso che ha scarso peso per le soluzioni dei problemi del Paese, che è i vitalizi, dà il senso della nuova classe dirigente. Molto divertente, nel senso che è feroce la lite tra Salvini, scusatemi, tra Sallusti e Movimento 5 Stelle perché Movimento 5 Stelle, dice Sallusti in intervista l'altro giorno in televisione, Doninelli e Grillo che sembravano due comici, alla fine dicono che tutti quelli come i berlusconiani e i suoi sono geneticamente diversi, sono geneticamente diversi e oggi Sallusti gli risponde, dice beh sì, forse siamo geneticamente diversi, però l'antropologicamente diverso è passato dalla sinistra alla destra, come dice oggi Facci e Sallusti in maniera un po' meno garbata gli dice sì, siamo antropologicamente diversi perché Doninelli è uno scimpanse, dice Sallusti. Il fatto che la sinistra sia antropologicamente diversa rispetto alla destra è una di quelle balle che ha, è anzi superiore dalla destra, vi ricordate quando ci raccontavano che la destra è quella che parcheggia in seconda fila, basta vedere la fine che ha fatto il loro beniamino Lula in Brasile che non ci sta ad essere arrestato per corruzione, con lui tanti manifestanti. Insomma questa storia di Lula è una storia, adesso siamo un po' più visibili, è una storia drammatica non tanto per Lula ma per la ridicola situazione in cui la sinistra ha inneggiato a Lula negli anni passati, l'uomo che riuscirà a risolvere la corruzione, i problemi del Brasile, beccato per corruzione, non vuole andare in galera. Molto divertente il pezzo fatto oggi, l'intervista realizzata oggi dal Foglio che c'è un paio di cose buone, io la pronuncerò male, quindi Françoise adesso si arrabbia, ed è Eugénie Bastille che è una ragazza di 26 anni, che scrive per il Figaro mi sembra, e che è una delle conservatrici, una donna di destra, giovane donna di destra della nuova destra francese, che ha espresso grandi personaggi nel passato e che prende per i fondelli tutti quanti i nuovi luoghi comuni dal Me Too, dal macronismo, e sul macronismo dice, Macron è un uomo che non ha ideologie, è un uomo che dice che ci vuole più efficienza, dice chi è contrario all'efficienza, chi è contrario, aggiungo io, al cancellare i vitalizi, chi è contrario a cercare più lavoro, il punto vero è stare da una parte del mondo, come si cerca più lavoro, come avere più efficienza, come garantire la democrazia, quindi il pezzo dell'intervista oggi di Eugénie Bastille, secondo me vale la pena di leggerla, è sul foglio, come mai non riesco a vederlo cosa Maria Grazia, non lo so, l'altro grande tema di giornata ma di cui poco ci si occupa è la Team, che era una grande società italiana, è diventata una specie di piccolo competitor mondiale, ma si sta facendo una grande battaglia finanziaria per il suo controllo tra i francesi di Vivondi e questo fondo americano di speculatori speculatori che io considero sani, che si chiamano Iliot, quelli che molti di voi chiamerebbero i neoliberisti, fondi avvoltoi, ma accanto a loro chi si è candidato? La Cassa Depositi e Prestiti, il risparmio postale con il fondo Iliot, è un accordo incredibile tra diversi e ieri il titolo in borsa ha fatto il 7%, devo dire che è molto divertente questa partita da punto di vista finanziario, Trump invece continua con i suoi dazzi, 100 miliardi ancora di dazzi nei confronti della Cina, ricordatevi, ve l'ho detto 100 volte, sono fissato, a voi che tanto amate i dazzi e il protezionismo, i sofranismi di noantri, si inizia con i 5 miliardi, 6 miliardi, quelli rispondono, poi si alza 100, poi dove non passano le merci, passano le armi, raccontava Bastiat, sono fissato a dirlo. L'ultimo grande tema di giornata, che secondo me è un grande tema proprio sul free speech, che è il primo emendamento americano e non solo, è quello che è posto da Giuliano Ferrara, ma anche dall'avvenire, comprensibilmente in prima pagina, cioè un manifesto pro-life in un quartiere romano, quel manifesto pro-life era contro l'aborto ed è stato subito oscurato dall'amministrazione comunale. Allora, si può essere favorevoli o contrari all'aborto, ma non è possibile ritenere, e questo dice Ferrara, ma lo ritengo anch'io, che chi è contrario all'aborto non lo possa dire? Cioè, qua siamo al mondo della rovescia, ormai c'è una legge, è possibile fare l'aborto, è possibile interrompere la vita nei termini prescritti dalla legge, lo può fare anche un minorenno nei termini prescritti dai tribunali, è tutto lecito, c'è un osservatorio sull'aborto, c'è chi è contrario a questa legge, continua a esserlo come Ferrara che ha fatto la sua lista, ha preso 130 mila voti e c'è la stragrande maggioranza di italiani che invece è favorevole, di fatto ha votato un referendum. Ma allora mi chiedo, chi è contrario all'aborto? Deve stare zitto? Non può parlare? Quando pensiamo e citiamo Voltaire sul fatto che la libertà di parola per i tuoi nemici è sacrosanta, di che cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando esattamente di questo manifesto? Chi è che ha deciso che quel manifesto deve essere tolto? Io non lo condivido, ma per quale motivo non può essere affesso quel manifesto? Ha ben ragione Ferrara a paragonare la cancellazione di un manifesto pro-life al fatto che in un paese teocratico come l'Iran impediscono e mettono la censura alle mammelle della lupa di Roma. Sono due atteggiamenti oscurantisti, completamente diversi, uno contro il pro-life, l'altro contro la libertà sessuale, diciamo così in senso vasto, ma sono figli della medesima cultura per cui quello che pensa il mio suo adison nemico non può avere dignità di pubblicità, di reclamizzazione, di articoli. È quella cultura per cui se tu non la pensi come me sei un fascista e se sei un fascista non puoi parlare perché così prevede la Costituzione. Mi fa orrore un paese che annulla un cartello di cui io anche non condivido probabilmente la finalità ma che comunque ha tutta la dignità per essere lì, o no? Bene, questo lo scrive Ferrara in maniera molto più colta e molto anche un po' più erzigogolata di come faccio io, ve lo consiglio e direi che per oggi è tutto. Vorrei salutarvi così come abbiamo iniziato e cioè con il Jedi di guerre spaziali e il 34esimo giorno della nostra vittoria. arriverà tra poche ore. Ciao!